Nuova udienza nell'aula bunker di Firenze sulla morte di Asley Olsen, uccisa nella sua abitazione in Oltrarno il 9 gennaio scorso. Oggi il senegalese Sheikh Diou, unico imputato con l'accusa di omicidio volontario nel processo per la morte della giovane americana, ha raccontato ai giudici una diversa versione di quelle ultime ore trascorse nel suo appartamento. Subito dopo l'arresto, l'uomo aveva detto agli inquirenti di aver avuto un rapporto sessuale con l'americana e poi un litigio culminato con una colluttazione. Oggi però, pur ribadendo che Asley, quando lui se ne andò dal mini appartamento, era sempre viva, ha cambiato alcuni dettagli nella ricostruzione degli ultimi minuti trascorsi con lei. Asley mi guardava dal letto, ha detto il senegalese in aula. Io la salutavo, lei mi sorrideva e mi ha mandato un bacio. Quando sono uscito non c'era niente di grave, se avessi visto uscire del sangue non l'avrei mai abbandonata. Ero ubriaco, ma non certo pazzo. Diou ha poi raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con l'americana e poi di aver litigato perché lei lo voleva mandare via nel timore che il fidanzato arrivasse e li scoprisse insieme. Ma quando la lite è degenerata, l'uomo ha detto di averle sferrato un pugno tra la spalla e il collo e non sulla nuca, come dichiarato in precedenza. Un colpo tale da farla finire a terra. L'uomo l'avrebbe poi aiutata ad alzarsi, prendendola sotto le ascelle e non per il collo, come aveva affermato mesi fa. Il senegalese ha raccontato di aver incontrato Hasley la mattina del 9 gennaio intorno alle 4 nella discoteca Monte Carlo di Firenze. Sarebbe stata la donna, ha affermato l'uomo, a indurlo a consumare cocaina sia all'interno del locale che a casa sua, dove lei lo aveva invitato per riposare dopo averlo raggiunto in strada all'uscita del locale. Il senegalese ha raccontato che quando arrivò nell'appartamento era ubriaco e aveva male alla testa.